Il Tribunale collegiale di Ragusa ha emesso nel tardo pomeriggio di ieri la sentenza di condanna di primo grado per il processo scaturito da un'indagine della DDA di Catania che aveva incentrato l'attenzione su un gruppo malavitoso che operava a Comiso per associazione mafiosa e una serie di estorsioni e danni di commercianti. Sono stati quindi condannati Salvatore Servo a 12 anni e 4 mesi, Giuseppe Guastella a 11 anni e 2 mesi, Francesco Razza a 9 anni e Lorenzo Licausi a 9 anni, tutti in continuazione di reato. Per loro anche l'onere del pagamento delle spese processuali, del mantenimento in custodia cautelare e l'interdizione perpetua dei pubblici uffici in interdizione legale durante la pena e incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Per due di loro il Tribunale ha applicato anche la pena accessoria della misura di sicurezza della libertà vigilata non inferiore a 3 anni e per altri due non inferiore a 1 anno. Per tentata estorsione e minera. Assolto Rosario Candiano per non aver commesso il fatto in relazione all'acquisto e al possesso di armi, per lui il PM aveva chiesto la condanna a 7 anni e 7.000 euro di multa. Il Tribunale ha anche sentenziato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di altre due persone per reati contro il patrimonio. Per loro il PM aveva chiesto la condanna a 5 anni e 2.500 euro di multa ciascuno. Reato di minacce prescritto per Lucia Gentilini come da richiesta del PM non luogo anche a procedere nei confronti di Mario Campailla per sopravvenuto decesso. I fatti vennero commessi tra il 2011 e il 2013. Il Tribunale ha disposto anche la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per valutare se procedere per falsa testimonianza nei confronti di quattro persone.